O, ma che stai facendo? Ho le chiavi. Vuoi dire, ma? Io ho capito subito che non ero una pigna. Lasci, mi pigna. Ma che? No, non funziona così. Ho detto che devi stare zitto. Mudo! Zitto! Non puoi decidere sempre tu, hai capito? Vuoi continuare a giocare con i tuoi modellini? Oppure? Ma che f***a? Perché devi rovinare tu? Ma tu sei uno stronzo, hai capito? Ma io ti devo lasciare! Ma ma, ma ti pare normale che proprio adesso dobbiamo parlare del Vesuvio? La costa di terremoto, la protezione civile ha dato un... Sindaco! Sindaco! Quello che temevamo è successo veramente. È saltato il tonnello di Borrani. Il Vesuvio sta per erottare il piano di evacuazione. E dove ce ne andremo? Nell'appartamento che teniamo a Parigi? O nella villa che teniamo a Portofino? La gente aspetta il suo turno, se non vuoi, magari in fila per due. Germano! Io sono il responsabile della sicurezza dei trasporti per il piano di evacuazione, vero? Questo è uno dei pullman che porterà in salve i cittadini di San Lorenzo. L'ultimo fa era da queste parti e ora è sparito. Mamma mia, Erle! Metti in moto, parte, parte. Aspetta, stavo dicendo. Ernesto, sta arrivando Sonia! Sonia? Eh, mamma mia! Scusi, questo è o non è l'info-point dell'evacuazione? Se lei mi dice che qua stava un pullmanieri, io ma lo so perché non c'è. Gabriele, vedono zi con questi chef per piacere. Come è possibile che ho perso il segnale? Non si apre! Dove sono? Grazie per averci aiutato. Comunque se volete potreste venire amorigerati. Almeno troverete ospitalità. Secondo me hai fatto bene. Demetri è stato coraggioso. Non mi spira, scatate. C'è l'altro, c'è l'altro, c'è l'altro! Faccio l'assicuratore. Brividi? Sì, mi serve altro. Oh, che fai?